Oggi abbiamo questo, all'interno del ciclo di libri presentati dal Parri e dal coordinamento degli studi lombardi. Oggi abbiamo un libro molto importante, è un tema molto importante, quello del neofascismo. Il libro è quello di Claudio Vercelli, Neofascismo in grigio, la destra radicale tra l'Italia e l'Europa. Abbiamo qui l'autore che interloquirà e sentiremo con tre autorevoli studiosi, se li presento brevemente. Abbiamo Guido Panvini che è ricercatore di storia contemporanea all'Università di Bologna e si è occupato delle sue ricerche anche all'interno dei volumi, ha pubblicato di terrorismo, gli anni di piombo, quindi lo stragismo, in generale diciamo le radici politiche e culturali della violenza proprio neofascista in Italia. Poi abbiamo Elia Rosati che svolge da oltre un decennio attività didattica di ricerca, prima la Facoltà di Scienze Politiche, poi il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Milano, degli studi di Milano e la sua ricerca sia politologica, storiografica è un po' centrata sull'Italia repubblicana, in particolare sulla destra neofascista. Cito solo un importante libro sulla storia di Ordine Nuovo insieme ad Aldo Giannuli e poi un volume l'anno successivo proprio su Casa Pound Italia, fascisti del terzo millennio. E Christian Raimo, abbiamo anche Christian Raimo, scrittore traduttore, che ha pubblicato numerosi saggi e romanzi, ma voglio ricordare di Christian Raimo, ho 16 anni e sono fascista, indagine sui ragazzi e l'estrema destra, perché tornerà forse utile anche oggi, non so se Christian ne parlerà appunto, l'analisi lucida e inquietante questa, che ci rivela un po' la fascinazione dei giovani e dei giovanissimi per l'estrema destra. Ora, notizia proprio di oggi sul Corriere, così mi è caduto l'occhio, ma pare che i fratelli d'Italia e Giorgia Miloni abbiano in due anni triplicato il numero di chiestere. Pare proprio tra giovani e giovanissimi, nel Lazio, in Puglia, insomma, c'è quest'articolo dove è l'unico partito che triplica, ecco, quindi forse è bene insomma parlare di questo fenomeno, ecco. Il libro adesso, lasciamo la parola appunto agli studiosi, comunque anticipo solo, ecco, una cosa che mi ha così colpito all'interno del libro, tra le tante ovviamente, ma che oggi il fascismo non si presenta come potere, bensì come esercizio di contropotere, si propone come una figura rassicurante, non come soggetto dell'inquietudine, però in realtà noi l'inquietudine ce ne dà e come, ecco. Quindi adesso lascio la parola inizialmente a Cristian Raimo, in modo che si possa insomma sviluppare un dibattito su questo problema del fenomeno del neofascismo, continuità, discontinuità rispetto al fascismo classico, le parole d'ordine, le parole anche il lessico politico, a me quello che interessa, questo libro mi è piaciuto molto perché mette a fuoco alcune parole, ecco, poi Claudio probabilmente ci parlerà insomma, le parole proprio del lessico, bisogna fare attenzione all'uso delle parole oggi, è vero che sui social ne leggiamo tante, ma ci sono parole che connotano, no, questo universo, questa costellazione del neofascismo e quindi io me ne sono, a me non so, mi sembra interessante che tornino alcune parole che noi già conosciamo anche un'espressione, società organica, comunità di indistinti, no, diceva appunto, scriveva Vercelli, ma appartenenza etnica, sostituzione etnica, di questo ne avevo parlato anch'io in un articolo, cioè detta da politici di oggi, eh, da consiglieri comunali, regionali, paura della sostituzione etnica, localismo contro globalizzazione, ci sono tanti termini, comunità di popolo, ecco, adesso, quindi sentiremo adesso oggi da questi tre autorevoli studiosi e dal nostro autore, che cosa è, come può essere rappresentato questo universo, come possiamo riconoscerlo, ecco, se ci sono dei giovani, spero, eh, questa diretta Facebook, ci piacerebbe, insomma, che intervenissero eventualmente con domande, ma che fossero poi in grado di riconoscerlo, ecco, questo fenomeno. Grazie, passo la parola a Cristiano. E la, devi mettere Cristiano. Grazie, 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 insomma, sono contento, ci sono persone che non vedo da un sacco di tempo, ma siete tutti invecchiati molto meglio di me, quindi non solo io sono stato una vittima di questa pandemia, e intanto, appunto, grazie per l'introduzione, io non potrò stare tutto il tempo del dibattito, ma, insomma, intanto mi faceva piacere l'invito a ragionare insieme di questo libro e a provare a squadernare alcune delle questioni che Claudio Vercelli pone, che sono molto diverse, sono stratificate e sono poste in maniera, diciamo, critica, problematica. Perché il libro, in realtà, appunto, è un libro che mette insieme una parte di riflessione sul tema, viene di dire, diciamo, da storico che si presta a una riflessione intorno a fenomeni del presente, insieme, appunto, a una persona che ragionava tanto tempo su queste tematiche da un punto di vista del teorico politico, della riflessione politica, e dall'altra parte che chiaramente non può che fare a meno di interessarsi rispetto a tutto questo, anche come inchiestatore, come editorialista, come persona che, come dire, ragiona un po' sul... Io provo a dire delle cose che appunto stanno, diciamo, che mi sembrano gli aspetti più aperti del libro. Il libro, in realtà, appunto, è una collezione di saggi che riattraversano il fenomeno del neofascismo contemporaneo, cercando di definire quali sono, appunto, alcune caratteristiche determinanti, alcune caratteristiche qualificanti. Oggi il tema che pone anche Claudio, una riflessione iniziale, è che se tutto è fascismo, tutto è neofascismo, niente è neofascismo, ma se niente è neofascismo, in realtà, dall'altra parte facciamo fatica, o niente è fascismo, facciamo fatica a inquadrare, come dire, soprattutto tutti quei fenomeni che si dichiarano fascisti, perché è vero che noi possiamo cogliere delle attitudini fascistoidi, degli elementi fascistoidi molto del dibattito pubblico contemporaneo, e quindi è difficile discernere cosa possiamo definire prettamente fascista e cosa, invece, appunto, ha semplicemente delle caratteristiche simili, cripto, eccetera, eccetera, ma poi abbiamo a che fare con molta, molta della fenomenologia politica che si dichiara, come dire, anche schiettamente, arrogantemente fascista. Quindi, insomma, faremo un esercizio di indulgenza quasi pericolosa a non definire fascista chi si dichiara espressamente fascista. Questo è una prima, come dire, riflessione occamiana, proprio per appunto, di Enzia non sunt moltiplicanda, ma almeno, diciamo, possiamo dire che è fascista chi dice sono fascista e chi si comporta in maniera fascista e chi si dichiara fascista. E poi c'è, secondo me, appunto, un'altra prospettiva che subito il primo dei saggi di Claudio, in realtà, appunto, questo libro è composto da capitoli che sono dei saggi che hanno una loro autonomia. Dialoga subito con quello che è stato un tentativo di riordinare questo dibattito sul fascismo e neofascismo contemporaneo, che è il libro di Emilio Gentile, che con la sua autorevolezza di storico di riferimento del fascismo ha cercato, appunto, di fare un lavoro di rilettura dei fenomeni contemporanei a partire dalla bibliografia novecentesca, storica, storiografica del fascismo. Misinterpretando un po' quella che è invece, appunto, la qualità del dibattito contemporaneo che non si interroga, che non comprende chiaramente soltanto gli storici, questo è un dibattito che chiaramente non coinvolge soltanto gli storici, non soltanto chiaramente gli storici del novecento. Provando, come dire, a non fare subito, a non rimettere subito in campo, come dire, le questioni storiografiche, mi sembra molto buona la, diciamo, la mossa del cavallo di Claudio Vercelli, che rispetto a la questione se noi dobbiamo definire fascista X o è fascismo storico, neofascismo, neonazionalismo, identitarismo, post-fascista, che è una questione, come dire, che per gli storici non è una questione di lana caprina, ovviamente, perché chiaramente le interpretazioni poi sono anche, le categorie interpretative sono anche un metodo che ci aiutano a fare storia politica e storia, diciamo, applica un metodo che io definirei appunto più performativo, cioè non è interessante che cos'è fascismo o che cos'è neofascismo, ma è interessante che cosa fa il fascismo o che cosa fa il neofascismo e questo secondo me è qualcosa che riesce a mettere insieme prospettive diverse, cioè la prospettiva di militanti, io appunto mi considero chiaramente oltre un giornalista, un editorialista, uno che riflette su questi temi, che ha anche una familiarità, non mi difenerei uno storico, ma insomma appena finito quasi di fare un dottorato in storia contemporanea, quindi un pochino di familiarità, diciamo, con il metodo storico ce la posso anche avere, diciamo, riesce a mettere insieme le varie prospettive valorizzandole, cioè in fondo noi abbiamo a che fare con dei fenomeni molto plastici, non soltanto molto plastici perché chiaramente sono presenti, sono di fronte a noi, stanno cambiando, sono mutevoli, ma sono volontariamente plastici, cioè nel senso che i fenomeni, diciamo, del fascismo, del neofascismo contemporaneo cercano il più possibile di essere dei fenomeni che mutano, che sono mutevoli, in contrapposizione a quello che poi è per me il panorama più interessante, la dimensione più interessante, cioè la dimensione comunicativa. In realtà appunto il fascismo ha capito, il fascismo contemporaneo, nel neofascismo contemporaneo, ha sicuramente una caratteristica diversa dai neofascismi che Claudio Vercelli ha studiato anche appunto in un libro di qualche anno fa che cercava di fare appunto il punto sui neofascismi storici italiani che, come dire, sono studiati poco, il libro di Claudio Vercelli e i libri di Elia Rosati sono, diciamo, delle eccezioni in questo termine, non c'è di fatto un libro di riferimento sul neofascismo contemporaneo italiano, ma rispetto ai neofascismi storici, la qualità secondo me imminente del neofascismo contemporaneo italiano è la sua capacità comunicativa e la sua dimestichezza su un piano pubblico. Casa Pound, da quando è stata fondata, ha una dimensione pubblica molto evidente, ha di fatto, come dire, due identità, un'identità pubblica con un capo pubblico che è di Stefano e invece appunto chiaramente un'identità più occulta, più da militanti, più da camerati, che è quella invece guidata da Iannone, ma questo, come dire, non comporta, non rimuove il fatto che Casa Pound e le idee di Casa Pound, la modalità di Casa Pound, la fenomenologia di Casa Pound e tutti gli elementi pop di Casa Pound, Forza Nuova, eccetera, eccetera, si muovono tantissimo, tantissimo su un piano della dimensione pubblica comunicativa. Questa cosa chiaramente è stata moltiplicata a dismisura dai social network, dalla rete, che ha una possibilità di comunicazione molto più, come dire, capillare, pieni di livelli diversi, eccetera, eccetera. E di fatto l'idea dello squadrismo mediatico si è trasformato negli ultimi anni in una ottima, diciamo, ottima arma strategica di egemonia, in un contesto di depoliticizzazione del dibattito pubblico, che almeno dalla fine degli anni dieci ha fatto sì che l'attivismo in generale, i partiti istituzionali, i sindacati e molto altro, come dire, riducesse, si riducesse il piano politico, si riducesse la politicizzazione del piano politico, ecco che noi ci troviamo a che fare con un fenomeno strano, e finisco, diciamo, il mio intervento, e cioè con un fascismo, in qualche modo, che cerca di dissimulare il suo statuto politico. Noi abbiamo sempre pensato al fascismo come l'inizio, o comunque un riferimento delle forme politiche del Novecento, non abbiamo mai immaginato, abbiamo, come dire, il fascismo del Novecento colora l'intera storia del Novecento di iperpolitica, è come se la dimensione politica in qualche modo, appunto, fosse totalizzante, e totalitaria, ed ecco che invece il neofascismo fa qualcosa di diverso, appunto, confonde il piano sociale, il piano politico, il piano comunicativo, ma questo serve soprattutto a fare un'egemonia di tipo culturale, diciamo, pseudo-culturale o sub-culturale, in un contesto in cui, appunto, le infrastrutture culturali, le infrastrutture epistemiche e le infrastrutture della politica, sono molto, molto deboli. Indagare su questo neofascismo è molto complicato, e, come dire, i saggi di Claudio Vercelli sono degli ottimi carotaggi, cercano di andare a fondo, ma chiaramente, appunto, sarebbe difficile oggi ragionare in termini sistemici su il neofascismo, servono delle ottime inchieste, cioè serve dell'ottimo giornalismo, e questo in qualche modo è mancato, serve una buona capacità di lettura della fenomenologia pop, la rete, prima di tutto, ma anche le letture iconografiche, ma anche tutto ciò che riguarda una dimensione non testuale del neofascismo, e serve chiaramente aggiornare a un piano internazionale, a un piano non nazionale, quello che è un fenomeno, chiaramente, che di nazionale ha semplicemente, come dire, il franchising in qualche modo, il marketing, cioè una rete che oggi sempre di più si muove secondo dispositivi che cambiano e che hanno legami internazionali, linguaggi internazionali, e che spesso appunto si concentrano e si nazionalizzano semplicemente appunto nel momento in cui diventano propaganda, eccetera, eccetera. Quindi io, diciamo, per riassumere, forse un intervento che ha provato a mettere carne al fuoco più che a disporre questa carne intorno alle pedanze, io quello che dico è questo, c'è stato un fascismo storico che ha avuto delle caratteristiche ben precise e che ha avuto una storiografia corrispondente. Oggi quel fascismo storico, come dire, e quella storiografia ci serve fino a un certo punto per indagare i fenomeni contemporanei, ci serve un approccio multidisciplinare e bisogna indagare più che il campo politico, che è un campo, come dire, molto familiare agli storici contemporaneisti, il campo della comunicazione e il campo della fenomenologia pop, che chiaramente è un campo, anche questo, familiare a una prospettiva storica, ma non così centrale in genere quando si discute di fascismo e di neofascismo. È utile, e questo magari spero che sarà un libro futuro di Claudio, fare, mi piacerebbe che ci fosse un libro monumentale, che lo faccia Claudio, che lo faccia Elia, che lo faccia Guido, che lo faccia qualcun altro, che si faccia insieme, è un libro monumentale sul neofascismo della lunga durata, insomma, il fascismo storico, quello che è accaduto, diciamo, dal 1945 ad oggi, con tutti i tentativi che ci sono stati di rimodulare questo strano prodotto italiano, che è il fascismo. Bene, grazie Cristian. Adesso, mentre parlavi, ovviamente, di neofascismo anche pop, attenti, ovviamente, capaci, molto competenti, la comunicazione, questo è innegabile, poi pensavo anche a quelle espressioni culturali, tra virgolette, però, per esempio, le graphic novel, è un altro elemento, ne escono, no? In continuazione, Francesco Borgonovo, che vediamo sempre in televisione, sulla verità, questi contro l'invasione, sono veramente casellettrice ferrogallico, hanno una presa, no? Sui ragazzi, sui giovani, quindi, sono stati capaci. Ma, a proposito, è un volontario, dico questa cosa, nel senso che, a un certo punto, Casa Pound ha deciso di non essere più un attore politico nel lagone, di non essere più un attore politico nel lagone, ma ha deciso di spostare il suo impegno, le sue energie, per essere, appunto, un attore nel lagone culturale, e quindi, anche se noi, diciamo, prende l'1%, lo 0,5, eccetera, eccetera, è chiaro che molto di quel lavoro, poi, va a rinforzare, invece, il consenso politico, in maniera molto massiva, di due formazioni, come la Lega, e la Lega, che oggi, invece, hanno una dimensione ben più ampia, nazionale, eccetera, eccetera. Sì, sì, infatti. Bene, adesso, non so, volete, passiamo a Guido Pambini, sentiamo, va bene, Guido. Bene, grazie, grazie per avermi invitato alla presentazione di questo libro, mi ha proceduto un bel autorevole intervento, quindi, non sarà semplice aggiungere ulteriore carne al fuoco. Allora, direi, è un libro interessante, faccio un po' di pubblicità, è un libro interessante, perché si interroga, secondo me, su una questione fondamentale, cioè, che è quello del ruolo della destra radicale nell'ondata del populismo, che non soltanto in Italia, ma a livello globale, sta caratterizzando un po' la scena politica negli ultimi 15-20 anni, ed è sicuramente un libro che in realtà si inserisce in un dibattito storiografico, e non sul neofascismo, che io credo in realtà può essere molto articolato, e, d'altronde, il libro di Claudio Percelli dialoga molto bene con le riflessioni di Enzo Traverzo, non solo quelle di Emilio Gentile, richiama anche altri autorevoli interventi, penso a quello di Filkenstein, sul rapporto tra populismo e neofascismo, o un recente intervento di Renato Moro, che è comparso sulla rivista Il Molino, sullo stesso identico problema di definizione, che cos'è un neofascismo. Quello che fa Claudio Percelli però è molto interessante, cioè lui sposta sostanzialmente l'asse delle riflessioni, non tanto sul tema del ritorno del fascismo, ma pone il problema di misurare nel lungo periodo quali sono state le eredità del neofascismo, e la colloca in una dimensione di lunga durata, e ci dice il neofascismo dopo il 1945 è grossomodo, perlomeno stando al teatro dell'Europa occidentale, un insieme di movimenti, di partiti politici che stanno però all'opposizione. E tutt'oggi, perlomeno, nelle frange più radicali che sono state qui richiamate come Forza Nuova, Casa Ronda, ne esistono anche di altre, ma sono quelle più visibili, sono diciamo in una posizione di opposizione. E quindi secondo me è interessante come aver spostato l'asse da un tema che è molto indagato, forse anche un po' abusato, giustamente Claudio Percelli se non l'ho mal interpretato è un po' scettico nel riattualizzare l'eterno ricoprano del fascismo, no? Ci interroga, ci ricorda che c'è una dimensione altra, post-45, che è quella del neofascismo, della destra radicale che non sono, fra le altre cose, non sono, diciamo, due categorie sinonime. La destra radicale e il neofascismo sono due mondi che andrebbero sviscerati e analizzati se non altro perché, ad esempio, il radicalismo di destra nasce anche come superamento del nostalgismo, di quello che era stato l'esperienza del fascismo storico con l'ambizione di superarlo a destra, quindi questo non è il centro del libro ma è sicuramente un tema molto interessante. D'altronde questa dimensione di opposizione, ci dice Vercelli, se traccia un filo conduttore, se è possibile scavare una radice, la colloca più che altro nel contesto del primo dopo guerra, cioè gli anni che vanno da 19 a 22, non soltanto in Italia, d'altronde Vercelli si confronta con i lavori dello storico Zeb Sternell, cioè su la nascita di lungo periodo della destra rivoluzionaria, quindi che prende in realtà dall'Ottocento all'inizio della prima guerra mondiale, richiama la cultura della crisi che si sviluppa in Germania prima dell'avvento del nazismo e ci dice guardate che il neofascismo porta in grembo questa eredità culturale che lo rende qui interessante non un movimento antimoderno ma forse proprio al contrario un movimento molto inserito nella modernità perché capace di rigenerare in termini politici come accennava Cristian Reim ma quel rapporto tra tecnica e politica che è stata ed è tuttora una grande eredità che il novecento poi ha trasmesso al ventunesimo secolo tanto più c'è un bellissimo saggio forse il saggio che ha più colpito la mia curiosità e fantasia di studioso è il saggio dedicato a come potenzialmente il neofascismo utilizza la tecnica del membre quindi la più insidiosa delle tecnologie digitali per disseminare a livello culturale e sociale quindi non soltanto a livello politico quello che sono le sue parole d'ordine le sue battaglie culturali molto interessante questo rapporto tra tecnica e politico si riattualizza in colto in movimenti che nascono e su questo ragione Raimo cioè nascono con una grande capacità di fare marketing io aggiungerei anche un po' una provocazione agli occhi dello storico in realtà Casa Pound non è un fenomeno così sorprendente cioè se andiamo a vedere il suo insediamento territoriale la sua storia sociale è di fatto in continuità con quella del neofascismo storico in città dove tradizionalmente penso alla mia città a Roma ma il discorso vale per altre piazze dove tradizionalmente dal secondo dopo guerra è sempre stata presente una certa presenza di estrema destra a livello popolare soprattutto nel mondo giovanile studentesco quindi da quel punto di vista non è in realtà non rappresenta una vera discontinuità la discontinuità ha rappresentato fin da subito Casa Pound la sua grande capacità di adeguarsi all'evoluzione dei mezzi tecnologici di fare di usare le tecniche del marketing alla politica e da questo punto di vista di poter influenzare ampiamente una strada d'opinione pubblica che forse qualche decennio fa era impensabile influenzare se non e su questo forse varrebbe la pena riflettere attraverso l'uso della violenza cioè questi gruppi neofascisti di destra radicale ricorrono se non so dirvi dal punto di vista statistico salporiamente o frequentemente all'utilizzo della violenza ma diciamo la vera differenza è che la violenza pur essendo diciamo un elemento presente nella subcultura nel substrato antropologico delle formazioni di destra radicale non ha quella centralità che per esempio aveva negli anni 70 semplicemente perché io credo che è stata sostituita da un'arma molto più potente che quella di fare diciamo del marketing una vera e propria strategia digitale e ripeto qui il libro di Claudio Vercelli cerca di trovare un po' un punto di connessione tra l'ondata dei populismi è un termine ambivalente ambiguo su cui possiamo passare le ore a riflettere e forse il punto di connessione in realtà Vercelli l'ha trovato nel momento in cui ci dice guardate che la riproposizione dell'antisemitismo come laboratorio e camera di incubazione di tutte le teorie cospirative ci sono diverse riflessioni su canon le diverse le diverse tipologie di di teorie della cospirazione che si susseguono anche a ritmo molto frenetico sulla rete e quello forse è il punto di connessione più inquietante e anche lì dove si fa più visibile l'eredità del oscura del novecento e con tutte le implicazioni politiche che ne possono avvenire nell'immediato futuro come tutti i libri interessanti la riflessione di Vercelli mi ha aperto tutta una serie di di questioni che anch'io vorrei buttare lì sul tavolo senza avere la pretesa di risolverle oggi la prima domanda forse mi chiedo se il focus della nostra riflessione debbano essere poi i piccoli gruppi sostanzialmente che da un punto di vista politico come è stato richiamato prima a cui si possono aggiungere i vari microcosmi rosso-bruni le varie formazioni che diciamo in un ambiente politico della destra radicale magari dagli addetti ai lavori questo è poco noto per chi studia il neofascismo sa che è un ambiente divisivo e diversificato quanto lo è e qui lo dico non in senso provocatorio ma come continuità storica come l'estrema sinistra ed è un ambiente molto molto competitivo molto dove ci sono diciamo elementi di fratellanza e di solidarietà molto forti ma anche sono diciamo reti di militanza difficili da compattare in realtà da un punto di vista politico ed è un elemento di debolezza grazie a Dio perché poi non si riescono bene a spendere a qualquare dal punto di vista politico però ecco mi chiedo se la vera riflessione sia orientata verso questi gruppi e se non debba partire invece forse da un po' più lontano cioè le radici si possono trovare in Italia come in Francia Vercelli ce lo ricorda e la Francia è stata un grande in questa circolazione che dagli Stati Uniti alla Francia in Italia a cui bisognerebbe aggiungere anche l'America Latina è difficile capire chi chi scambia cosa però forse ci sono dei tratti comuni perlomeno per quanto riguarda la situazione europea e io la richiamo per quanto diciamo il teatro di mia riflessione che è quello italiano cioè a partire già da quella che convenzionalmente venne chiamata la seconda repubblica noi abbiamo assistito a una progressiva radicalizzazione dei cieti medi in questo paese perché sono saltate quelle funzioni che svolgevano i due grandi partiti di massa cioè la democrazia cristiana e il partito comunista la democrazia cristiana in realtà contrariamente un po' all'immagine che se ne aveva della propaganda era una diciamo era stato un partito che aveva democratizzato dei cieti medici altrimenti avrebbero espresso un'opzione politica molto più radicata e orientata a destra nel momento in cui salta quel tipo di mediazione a partire già dai primi anni 90 assistiamo a un progressivo a una progressivo radicalizzarsi e questo tappo salta secondo me completamente poi con la crisi finanziaria del 2007 e del 2008 e ancor prima che si parlasse esplicitamente di populismo noi avevamo a che fare con una inquietante e preoccupante disponibilità un'opzione politica non nitidamente democratica che pian piano è diventata sempre più ostile alla democrazia l'altro grande mediatore che manca è stato diciamo il partito comunista e progressivamente i sindacati lasciando scoperto un ruolo fondamentale cioè quello dei corpi intermedi nel conflitto sociale senza i quali in realtà le parole d'ordine della destra radicale stanno letteralmente proliferando e certo qua si avrebbe venuta una riflessione su poi l'attacco ai cosiddetti corpi intermedi se sia venuto solamente dalla destra radicale dal neofascismo io credo di no è venuto anche dall'estrema sinistra in qualche modo e dunque di nuovo torno alla domanda che ponevo sul tavolo cioè questi neofascismi in grigi dove vanno misurati qual è il soggetto politico di riferimento perché per esempio noi abbiamo avuto il Movimento 5 Stelle che è stato un grande laboratorio da questo punto di vista di rottura di schemi di riapproposizione di acquisizione addirittura di certe posizioni della destra radicale poi di negate poi abbandonate ma con una capacità camaleontica e mutazione che poi è tipica anche della tecnologia digitale che ci interroga su dove focalizzare la nostra riflessione l'ultima l'ultima riflessione che non vuole essere provocatoria è che in realtà questo neofascismo in grigio su cui si può aprire una discussione io direi non uso questo termine utilizzerei domandando anche a Claudio Vercelli non abbiamo avuto in realtà già al potere dei partiti che in realtà non si non si collocano diciamo nel nel solco della tradizione conservatrice o liberale cioè Fratelli d'Italia e la Lega di cui noi parliamo come formazioni di centrodestra in realtà sono degli strani ibridi politici cioè non sono non hanno sicuramente le posizioni non condividono le posizioni che sono tipiche di Casano e Forza Nuova ma forse sono il vero grande vettore di radicalizzazione di quella parte della società di nuovo torna all'importanza del diciamo dei ceti medi e un giorno forse noi dovremmo rendere anche conto alle generazioni di studiosi che ci che ci seguiranno perché utilizzavamo aggettivi come moderato centrodestra nei confronti di in realtà famiglie politiche che si collocavano in tutt'altra direzione e io mi fermerei qui insomma di cose ne abbiamo detto anche perché poi sarebbe giusto far parlare Claudio di cose ne ha da tante da dirci grazie grazie Guido infatti adesso faremo parlare Claudio sicuramente perché Claudio a un certo punto del suo libro io proprio a una parte che avevo evidenziato riporta perché qui abbiamo parlato di disintermediazione del dopo implosione di DCPC la seconda repubblica il problema dei ceti medi perché Claudio giustamente diceva scrive appunto che riporta addirittura una frase che veniva riportata durante il ventennio fascista qui non si parla di politica o di alta strategia qui si lavora campeggiava nei locali pubblici durante gli anni del mussolunismo e un po' il fascismo storico questo anche probabilmente i neofascismi condividono un po' quella cancellazione della politica come luogo e sfera di conflitto mediato ecco questa mente resterebbe poi che Claudio dovesse parlare di questo del dibattito articolato del confronto e si parla di nuovo di comunità di popolo la volontà popolare però certo è tutto riportato a quel senso comune quell'idem sentire che però sappiamo che per le destre neofasciste o comunque destre radicali è dentro quel recinto e quell'idem sentire loro ecco dopodiché fuori da lì no fuori c'è la costituzione c'è la costituzione plurale che a mente resta tanto la cittadinanza plurale mentre nel neofascismo questo non c'è ecco forse questa è un'altra possiamo porla come contrapposizione forse qui la sinistra è mancata semmai ecco fare un discorso più forte sulla cittadinanza plurale comunque quindi adesso sentiremo poi Claudio cosa può dirci appunto di questo ma io direi però non so dallo la parola a Delia Rosati e poi Claudio facciamo così va bene allora grazie buonasera a tutti ovviamente grazie grazie per l'invito allora stiamo discutendo questa sera e non è piaceria di un libro importante secondo me proprio perché come tutti gli studi articolati pone dei paletti ben precisi per inquadrare alcune alcune questioni che secondo me sono anche dirimenti per quanto riguarda anche quello che dicevano Cristian e Guido anche tu Simone sollecitavi cioè un inquadramento che sia attuale e che sia in grado però di comprendere dei fenomeni mimetici camaleontici complessi liquidi perché anche questo sono diciamo oggi quindi secondo me il libro di Claudio Vercelli in questa anche interazione fra saggi che citava prima Raimo pone dei punti nella discussione collegandosi sicuramente anche al dibattito io penso a quello sollevato appunto da Traverso che ha dato un po' il via diciamo negli anni più recenti a una ridiscussione su alcuni temi così come a lavori politologici diciamo che si sono mossi anche all'estero però pone dei paletti mi limito a sottolinearne alcuni per poi vedere anche come questi poi lascino soprattutto adesso e noi ci troviamo in un momento di cambiamento storico con la sindemia enorme e quindi anche l'aggiornamento di una cassetta degli attrezzi e possiamo anche dire che sulle destre radicali si era già in ritardo adesso si pone in maniera ancora più coccente perché ci troviamo in una riorganizzazione complessiva in cui siamo all'interno in cui dovremmo capire come che forme che strade più che altro prenderà e questo riguarda anche la destra radicale perché la destra radicale poi come sempre è ben agganciata spesso a questioni più che questioni a fratture sociali che si muovono nella nostra società allora mi limito a dire due o tre aspetti che secondo me sono importanti da questo punto di vista nel libro di Claudio prima di tutto il suo dire con chiarezza e con nettezza che i neofascismi sono fenomeni mitopoietici e mimetici cioè porre la dimensione della costruzione di un immaginario della costruzione di una narrazione della pennellare nel disegnare e descrivere una comunità in pericolo una nazione assediata un'identità strozzata dalla globalizzazione dalle migrazioni da quello che è descritto come il mondialismo cioè la visione diciamo da destra di quella che è la cosiddetta globalizzazione con lo schiacciamento dell'identità prima si diceva molto americanizzata e poi adesso incentrata sulla dimensione meticcia che è il grande diciamo il grande spauracchio e quindi come la costruzione in questo senso la costruzione di un linguaggio la costruzione di un perimetrare un noi e un voi sia poi uno degli elementi fondamentali che sappia però essere attentissimo a riorganizzare ristrutturare riciclare però modificare e attualizzare quelli che sono degli elementi valoriali e quello che è un contesto ideologico che come giustamente veniva ricordato prima si muove all'interno di un legame che c'è anche questo è un altro elemento che sottolinea bene Vercelli fra il pensiero reazionario radical conservatore e poi il fascismo cioè come ci sia questo odio per la modernità che sappia rinsaldare dalla Vandea a Evola all'antiglobalizzazione all'impatto della crisi e sappia riprendere quindi una grammatica reazionaria che diventa dicevamo in un'altra presentazione ai fascisti dispiacerà prometiccia diventa questa meticcia cioè diventa un qualcosa in cui uno scontro contro il pluralismo un odio per l'uguaglianza poi si va ad articolare nelle varie epoche nei vari contesti nella maniera più opportuna più comunicativa ma secondo molto spesso si cita Gramsci perché molti studi da destra hanno ripreso Gramsci da De Benoît ad altri spesso si parla di egemonia culturale Gramsci probabilmente usava una categoria ancora più calzante per la destra che è quella del dominio culturale che è la differenziazione fra egemonia cioè riprendere antichi valori identitari e saperli appunto o utilizzare e mettere sul piatto in maniera molto forte quindi in questo senso volgarmente quella che viene definita l'egemonia Gramsciana diciamo volgarmente ma il saper portare quindi un universo valoriale che però legge legge logico quindi questo primo elemento mitopoietico è ovviamente mimetico e che però sa ibridare un complessivo fronte antimoderno un fronte che quasi ha un sapore evoliano cioè in cui si è uomini tra le rovine in cui ci si oppone diciamo a quella che è la degenerazione dell'oggi la degenerazione delle democrazie prima si dicevano i corpi intermedi le lungaggini parlamentari questo odio anche per la rappresentanza rispetto invece all'elemento identitario della comunità che si rappresenta che si rappresenta da sola nei suoi confini e nei suoi perimetri altra cosa i fascisti non sono dei fascisti non sono i soggetti metastorici molto spesso noi li troviamo nel giornalismo nella narrazione come quasi delle sedute spiritiche come si dice tornano le pagine più buie della sfera del novecento ci sono dei rigurgiti sono delle i fascisti di oggi lo ricordava anche Raimon nel suo lavoro sono gruppi giovanili giovanilissimi diciamo perché perché proprio questo meccanismo di saper rispondere ad ansie fratture perdita di identità e costruirne di altre e fornire quindi una blanda gassetta degli attrezzi ma soprattutto una grammatica oggi se non ha un appeal storico molto radicato non funziona questi non aggregano sui cimiteri aggregano sulla loro visione legata a quello che è la difesa della comunità che sia il complotto gender che sia la grande sostituzione etnica che sia adesso la dittatura sanitaria sto citando tutti i termini ovviamente che fanno parte della grammatica della destra radicale dei libri di Altaforte delle conferenze di Casa Pound ma che troviamo purtroppo anche in alcuni giornali diciamo conservatori prima si citava la verità dove noi troviamo dittatura sanitaria sostituzione abbiamo anche gli stessi editorialisti che poi scrivono da una parte e dall'altra quindi questo questo linguaggio comune questa grammatica comune poi ha attracimato diciamo quindi anche questo è un elemento ma è sempre ben ancorata al piano storico in cui ci si trova e quindi anche quando facciamo dei parallelismi o anche quando il giornalismo un po' si diverte perché fa sensazione il fascista fa sempre sensazione diciamo cioè è suggestiva come tipo di come tipo di raffronto alle volte forse bisognerebbe essere un po' più attenti altra cosa secondo me l'altro il terzo elemento importante che ci aiuta a capire bene secondo me la questione che si pone anche nell'oggi quando Vercelli ed è una frase veramente limpida in questo senso dice l'autoritarismo non necessita oggi di governi forti ma di società fragili cioè noi spesso abbiamo avuto l'ossessione per diciamo andare appunto il corpo del duce si sarebbe detto cioè metterlo nel leader forte ma abbiamo perso di vista poi invece quanto sono diventate fragili le nostre democrazie quanto sono diventate sfragili i rapporti sociali l'interazione con i corpi intermedi la dialettica la dialettica sociale generazionale e quindi il rapporto con il mondo del lavoro e con l'organizzazione del disciplinamento sociale quindi chiaramente si invertono i termini si invertono i termini e qui appunto c'è anche un perimetro molto preciso che secondo me è che il libro dà bene in questo grande calderone perché va a smontare l'onda nera quello che era stato un po' questo refrain che abbiamo sentito giornalisticamente da Trump in poi per cui guardavamo più a Trump e Bannon o a Putin e Dugin rispetto invece a quanto ci si interrogava quanto noi e anche in Italia c'è il pezzetto sul 94 con le destre plurali la destra post-fordista della Lega il reganismo berlusconiano mediatico gli eredi del movimento sociale quanto invece l'Europa occidentale ha dato anche con le sue varie esperienze estronazionale a quello che sono altri contesti e non viceversa quindi quasi un'onda nera che non arriva al di là dell'Atlantico ma che dall'Europa poi ha saputo creare anche quella dimensione che poi è stata ben strutturata comunicativamente in un sistema anche elettorale come quello americano che prevede un'attenzione maniacale a certi meccanismi comunicativi che però resta fondamentalmente differente da quello dell'Europa occidentale così come altro pezzo anche l'Europa orientale spesso viene citato Orban che è un elemento importante anche Orban oggi l'uscita possibile di Orban dal Partito Popolare Europeo può riscrivere alcune famiglie può riscrivere alcune famiglie all'interno all'interno del Parlamento Europeo per quanto riguarda le destre oppure come l'opzione diciamo conservatrice radicale che si incarna oggi in Giorgia Meloni che è la presidente del secondo gruppo delle destre europee nel Parlamento poi può produrre ancora un'altra un'altra fagna politica che io credo che oggi sia molto più attinente invece alla fase politica che si apre rispetto invece alla Lega salviniana però pone il centro nell'Europa occidentale quindi pone anche questa questione relativamente all'esempio del front nazionale a quello che è stata la parabola del belusconismo e delle destre come dice Guido Calviron delle destre plurali italiane e poi ci colloca intorno le destre di altri contesti quindi anche una gerarchia differente perché altrimenti insomma noi ci interrogavamo sul fatto che Ben non avrebbe insegnato a Giorgia Meloni come fare politica e poi invece vediamo che probabilmente veniva più a prendere appunti che non per le sue conferenze il suo marketing politico rispetto invece a quanto poteva descrivere e quindi diciamo secondo me questi aspetti sono assolutamente essenziali per un dibattito di oggi partendo dal presupposto come dicevo all'inizio che dobbiamo forse oggi interrogarci su quale sarà questo stand by che c'è stato nella politica del nostro paese ma più in generale anche lo spazio delle destre radicali per quanto riguarda sempre l'Europa l'Europa occidentale ci troviamo in un contesto in cui è una facile previsione comportamenti elettorali l'offerta politica il rapporto differente con la dimensione governativa sia essa locale regionale nazionale europea si è modificato con la pandemia e con la sindemia noi ci si scandalizzava quando si vedeva sui giornali Salvini che diceva datemi i pieni poteri al papete mentre invece adesso ci siamo abituati come dire a un rapporto con la dimensione governativa decisionista netto che quindi un contesto una grammatica su cui la destra è molto più abituata la destra da tempo ha teorizzato diciamo il mettere via i corpi intermedi da tempo ha teorizzato le lungaggini dei parlamenti da tempo ha parlato di presidenzialismi accentramenti dimensioni dimensioni politico-rappresentative che dovessero essere incentrate su figure decisioniste rapide mentre invece la politica che sia essa casta o sia essa parlamento sia essa partiti sono lungaggini ecco noi forse l'abbiamo anche un po' introiettato io penso anche alcune dimensioni diciamo nella nostra governance potremmo interrogarci su come sono cambiate e come cambieranno dopo questa questo periodo che abbiamo vissuto e anche qual è il ruolo della destra che oggi vediamo gioca con particolari categorie economiche anche con questa questione dei ristori questa questione dell'appoggiare alcune categorie o altre questa idea della nazione che si trova intorno al tricolore dell'Europa che non è più il nemico ma adesso bisogna contrattare quello che ci deve dare nella grande discussione anche su recovery fund che è la discussione strategica diciamo di questo periodo io credo che per esempio anche mettere insieme queste cose la questione mitopoietica e mimetica la questione che non è metastorica la questione della fragilità delle nostre società relativamente all'autoritorismo e quindi non il contrario tutti questi paletti tutte queste gerarchie Claudio Vercelli ha messo sul piatto siano diciamo imprescindibili domande e siano utilissime per farne di nuove grazie grazie Elia perché mi hai anche hai focalizzato alcune delle questioni che anch'io su cui anch'io avevo fatto una mia riflessione leggendo le pagine di Claudio veramente sono andato addirittura a rivedermi alcune cose non so di Julio Viesi il grande germanista studioso dei miti lui lo diceva non c'è mito ma solo materiali mitologici variamente manipolati e tecnicizzati ora è chiaro Furio Viesi scriva negli anni 70 è morto nell'80 e diceva senza idee senza parole sulle idee senza parole della destra il problema è che poi sono nate si è evoluta la internet è nato internet si è evoluta tutto l'aspetto dei social e quelle idee purtroppo senza parole o parole con poche idee però funzionano nel mondo dei social ahimè però questo voglio dire lo si può anche riscontrare nel primo fascismo quello proprio mussoliniano sempre proprio sollecitato dalle riflessioni di Claudio è stato a rivedermi anche lì alcune cose scritte da Mussolini tra il 21 e il 22 c'era già quella torsione rispetto al sansepolcrismo ovviamente quell'avvicinamento anzi più che avvicinamento ai ceti forti ovviamente ai grandi latifondisti e ai grandi industriali e però c'era proprio questo aspetto diceva bisogna conquistare le masse ma c'è chi dice che la storia è fatta da singoli individui dagli eroi questa cosa Mussolini lo diceva già nel 21 e il discorso è sempre questa se vogliamo rapporto tra il leader e le masse Vercelli però Claudio parla proprio di plebeismo qui il discorso è che tipo di masse vogliono e che tipo di comunità che le comunità guardano indistinta è un plebeismo oggi quali erano le masse che facevano comodo a Mussolini e poi tutti i fascismi nazismi che conosciamo e quali le masse che fanno comodo oggi a una Meloni o a un Salvini e sempre lì torniamo stato distrutto in qualche modo stato distrutto stato minimizzato purtroppo è stato marginalizzato il discorso pubblico l'articolazione del dibattito politico tutto quello che conosciamo quello che dicevo prima quella politica fatta di idee e di confronto che non potrà mai portare una comunità intesa come le intendono le destre radicali qui il discorso sarebbe troppo lungo io poi ho una preparazione anche un po' dottrinaria dottrine politiche filosofia politica quindi ho studiato anche a lungo non so Roberto Esposito la comunitas l'immunitas i rapporti lì è molto interessante ma non abbiamo oggi il tempo giustamente però ecco sentiamo adesso Claudio appunto che magari tira un po' le file le file di questo discorso e i fili di questo discorso in modo che possiamo appunto capire qual era qual è insomma come riconoscerli ecco io continuo a dire che è importante oggi saperli riconoscere queste questa quello che esprimono queste queste forze pericolose io continuo a dire sono pericolose poi devo dire hanno questo aspetto no come diceva appunto come scriveva all'inizio il contropotere figure rassicuranti no non lo sono quindi lascio adesso a Claudio di di dirci appunto la sua grazie grazie a voi grazie a chi mi ha preceduto sapevo che Cristian Guido ed Elia avrebbero inquadrato ognuno per parte sua propria alcuni aspetti non solo del libro ma dei temi che il libro stesso poi solo in parte riesce ad affrontare anche perché effettivamente è un campo aperto un campo forse su cui dobbiamo tornare a riesercitarci con vecchie e trattino nuove strumentazioni cioè non congedarci dai lavori dagli studi peraltro numerosissimi che sono stati fatti nel passato rispetto al fascismo storico e in misura di molto minore però rispetto al neofascismo dal 43 45 Repubblica Sociale ad oggi o quantomeno agli anni 70 agli anni 80 ma più in generale rispetto a una serie di eventi fenomenologie e soggetti che fatichiamo oggi a identificare proprio perché come diceva la stessa idea riprendendo suggestioni che abbiamo suggestioni ma anche interpretazioni più che suggestioni che abbiamo condiviso con lui e con altri mitopoiesi e mimetismo sono due aspetti fondamentali del discorso che stiamo facendo quindi anche capacità di adattarsi a delle circostanze che mutano allora forse questo è un primo elemento da cui partire cioè non ci troviamo con un passato che non trascorre o che si riproduce come se fosse sempre uguale a sé ma ci troviamo dinanzi a delle trasformazioni e dei mutamenti che nel corso del tempo hanno mantenuto da un lato una certa continuità a dei richiami a tra virgolette quella che viene definita una tradizione a degli eventi forse anche delle vestigia più che altro ma dall'altro lato hanno anche ciò facendo permesso ad alcuni soggetti di non diventare astorici di non diventare anacronistici ma seguire il trend e in qualche misura assecondarlo e diventarne parte integrante allora un aspetto che a me sembra molto importante su cui fosse visto che ognuno di noi studia queste cose qua e si rivolge a un pubblico che per più aspetti interessato alla riflessione su queste cose allora un punto dicevo da cui partire forse sarebbe anche il transito degli anni 80 in senso lato non è soltanto un oggetto storiografico che stiamo iniziando a identificare ma è un mutamento che coinvolge anche quell'area lì cioè arriviamo da i fenomeni tra virgolette mi si passa il termine anarcoidi di una sorta di radicalizzazione individualistica e terroristica che in qualche misura aveva segnato anche se non la risoluzione l'autocontenimento di ciò che residuava del neofascismo antecedente a qualcosa di transito di passaggio che è arrivato che ha portato non tanto organizzazioni quanto soggetti e figure a ridisegnarsi e rimodellarsi nel corso del decennio gli anni 80 per l'appunto e poi successivamente negli anni e nei decenni seguenti gli anni 80 sono significativi per molte ragioni non li voglio richiamare non abbiamo neanche il tempo perché sono anni in cui si pongono diciamo così in maniera evidente e palese quegli elementi di post costituzionalità nel caso italiano di cui poi avremmo visto gli effetti direi duraturi perché da un trentennio che siamo entrati all'interno di quel percorso nel decennio successivo allora noi dobbiamo pensare alla destra radicale prima ancora che al neofascismo quasi che questo fosse un soggetto che altrimenti esiste resiste a prescindere dai processi storici dobbiamo pensare alla destra radicale italiana europea e non solo in rapporto per l'appunto alle trasformazioni che avvengono in quel decennio e nei decenni successivi questo è un primo punto di partenza se dobbiamo fare un lavoro storico perché il lavoro dello storico è anche quello di riuscire in qualche misura a periodizzare processi che sono in parte ancora in essere un altro dato che a me sembra molto importante è il fatto in qualche modo che le trasformazioni che si innescano dagli anni Ottanta anzi sono antecedenti ma negli anni Ottanta diventano evidenti portano da un lato a una sorta di esaltazione dell'individualismo e questo è un dato acclarato è un dato che abbiamo riscontrato dall'altro lato a un iniziale processo che poi nei due decenni successivi diventerà sommamente evidente di disintermediazione con l'esaltazione di questo aspetto quando parliamo di post costituzionalità e di post costituzione e di post democrazia non lo diciamo perché ci piacciono i prefissi ma perché vogliamo questi aspetti gli effetti di questi aspetti profondi ma anche ed era una cosa che già in qualche modo richiamava Elia Rosati nel suo intervento ha un problema di ridisciplinamento sociale cioè tu non governi una società semplicemente dicendo adesso siete tutti individui e come tali vi muovete secondo coordinate di mera autovalorizzazione cioè questo è un discorso ideologico ma nei fatti poi non ha riscontro effettivo allora l'interrogativo che io mi sto ponendo non l'ho ancora risolto badate bene questo libro è un libro intermedio di transizione di passaggio tra riflessioni già fatte sul passato storico del neofascismo e riflessioni a venire su ciò che potrebbe derivare da ulteriori studi il problema che io mi sono posto è al di là delle mostrificazioni al di là dei rifiuti politici ideologici che possono avere una loro legittimità ma che non risolvono l'oggetto in quanto tale qual è appunto il ruolo il ruolo di un arcipelago chiamiamolo così per comodità per intenderci anche se non è detto che sia la parola giusta che in qualche misura sta praticando una sorta di rifascistizzazione del basso perché se io dovessi dire ma Elia meglio di me può esprimersi al riguardo avendoci lavorato direttamente se io dovessi definire qual è la natura non solo di piccoli gruppi che pur hanno comunque un insediamento consistente come Casa Pound ma di tanti altri fenomeni non è tanto quello del portare una matrice ideologica definita una volta per sempre quanto di fare un discorso sulla società e sulla socialità in alternativa o al limite in compensazione rispetto a quello che le forze politiche altrimenti istituzionali tra virgolette parlamentari non vanno facendo o vanno facendo utilizzando canoni e temi e anche un lessico che sono essenzialmente estranei alla vita quotidiana guardate bene non sto dicendo che la rifascistizzazione del basso è la grande chance che permetterà a gruppi movimenti e quant'altro questo pulviscolo diffuso di avere un grande futuro ma noi dobbiamo confrontarci con l'eredità antica del fascismo storico e in parte anche di alcune manifestazioni neofasciste seguenti a nascita della nostra repubblica come a qualcosa che è prima ancora che politico dimensione sociale e questo è un tema complesso difficile da articolare ora è stato detto molto giustamente da Guido Panvini che finché c'erano i grandi partiti di massa le spinte chiamiamole pure degenerative erano contenute all'interno del loro alveo erano filtrate nel momento in cui questi due contenitori si sono in una sostanza consumati allora queste spinte si sono manifestate in vario modo non c'è bisogno di fare dei riferimenti precisi o si possono anche fare ma insomma già negli anni 90 abbiamo misurato una forte radicalizzazione non solo in Italia ma in Europa del discorso politico e se vogliamo usare dei termini che andrebbero spiegati ma quantomeno li evochiamo come semplici elementi di indirizzo una forte radicalizzazione a destra dell'agenda politica europea e segnatamente italiana io ricordo benissimo gli anni 90 tutti noi abbiamo un'età per ricordare cosa fossero gli anni 90 dal punto di vista proprio della rigenerazione rimodulazione dei temi dell'agenda politica invasione immigrazione impoverimento collettivo badate bene che tutto discorso fascistico si basa tradizionalmente anche su la difesa non importa quanto fittizia dei cetimedi o dei presunti tali dall'impoverimento collettivo che gli deriva dal meticciato non soltanto immigratorio ma anche tra virgolette economico di una globalizzazione pervasiva è un tema non nuovo non inedito che è però stato incorporato anche da forze politiche istituzionali allora se io dovessi risolvere facilmente la dialettica tra piccoli e grandi gruppi vi direi che i piccoli gruppi lavorano per in qualche misura portare non solo acqua al murino ma portare temi e portare parole d'ordine che entrano nel lessico di uso comune e da questo punto di vista questo lavoro in tandem è già in parte riuscito qualcuno ha parlato di un certo tipo di stampa io mi corre l'obbligo spesso per il lavoro che faccio di fare la rassegna stampa lo spoglio su alcuni temi fra diverse testate a partire appunto da alcuni giornali che sono stati già citati il linguaggio rimanda a uno squadrismo verbale mediatico e anche poi digitale che oggi è di uso comune in buona sostanza cosa vuol dire che questa sia l'anticamera del ritorno del fascismo ma queste sono banalizzazioni se le vogliamo leggere così il problema semmai invece sono gli equilibri culturali come diceva Elie Rosati gli equilibri etici e civili su cui si rigenera una dimensione post democratica questo è il vero problema questo è il vero spazio sul quale dobbiamo interrogarci rispetto all'azione di questi gruppi di questi movimenti che è un'azione che non si riduce e non si riconduce unicamente ed esclusivamente alla loro presenza politica altrimenti minoritaria aggiungo anche due o tre elementi sono molto veloce due o tre elementi che mi sembrano importanti una imprenditoria dell'angoscia e al contempo dell'identità che oggi è merce politica molto forte questi ultimi trent'anni il discorso politico non è più un discorso sul futuro ma su un presente minacciato costantemente pensateci bene non è un discorso solo di piccoli gruppi ancora una volta ma è un discorso anche di organizzazioni che hanno un seguito politico elettorale quindi un consenso robusto corposo che in tutta plausibilità continueranno a raccoglierlo al di là poi delle dinamiche che ognuno di esse conoscerà elettoralmente di volta in volta imprenditoria dell'ansia dell'angoscia è un capitale forte ma anche imprenditoria dell'identità tanto più ci sente ci si sente come dire scontornati sconfinati tanto più si rivendica un'identità come una sorta di scudo protettivo queste due sono materie angoscia e identità su cui i fascismi diciamo così di sempre non quelli evocati da Umberto Eco ma i trend socio-culturali di lungo periodo giocano un loro ruolo molto importante e sul quale come dire la riflessione deve in qualche modo tra gli altri elementi ripartire insieme come veniva ricordato prima da Pambini alla radicalizzazione dei ceti medi che è un dato assodato così assodato che lo diamo per scontato non ce ne accorgiamo neanche ma i temi che vengono oggi evocati molto spesso sono temi di emergenzialità pura e sono temi incorporati nel discorso politico legale non sto dicendo che l'attuale governo stia operando in quella logica sto dicendo che c'è un humus di fondo su cui come dire ci si muove e si giocano le identità non solo politiche ma anche quelle sociali in una grande trasformazione che ci sta coinvolgendo in questo momento e che proseguira nei prossimi anni un'ultima questione che non abbiamo citato ma che a me sembra molto interessante perché è una questione che si riannoda anche a temi di scenario a situazioni di scenario che vanno al di là della dimensione italiana ed europea nell'età dell'individualismo più esasperato per così dire c'è un grande presente trattino assente il corpo il corpo della nazione il corpo degli individui e la minaccia che viene arrecata al corpo i neofascismi in grigio lavorano molto su quest'ultimo elemento anche questo è un fattore che deriva da un passato che in qualche modo si riproduce e si rinnova il corpo è minacciato è rinacciata l'integrità del corpo della nazione comunità organica ma è minacciata anche l'unità del corpo individuale dalla presenza sporca meticcia per l'appunto come veniva ricordato prima di soggetti alieni di soggetti esterni cosa sono questi elementi e tanti altri che non abbiamo citato che potremmo comunque in qualche modo evocare in altre conversazioni cosa sono questi elementi dicevo se non fattori che stanno dentro non solo un discorso mitopoietico ma dentro un dispositivo di comunicazione politica diffusivo che è presente non necessariamente solo nelle sue punte più radicali ma è presente in un'agenda politica che in questi 30 anni è stata completamente stravolta completamente trasformata a me vengono adesso in mente per dire per l'associazione di idea i lavori fatti da Francesco Biscione parlo di un nome che è noto penso a tutti gli astanti a tutti i presenti che aveva già vent'anni fa in qualche modo riannodato alcuni di questi fili ma non c'è solo lui ce ne sono molti altri oltre ovviamente ai miei interlocutori qui che hanno parlato poc'anzi allora se ragioniamo per andare a sintesi e chiudere sul fascismo in grigio ragioniamo anzi sul neofascismo in grigio ragioniamo su questo ambito che mi rendo conto essere piuttosto scontornato che non sta dentro una dimensione puramente politico ideologica ma sta dentro un certo tipo di percezione di interpretazione e trasformazione di mutamento della coesione sociale attraverso tutta una serie di vettori che però hanno un antichissimo fondamento un antissimo calco e chiudo ricordando una cosa a quanti ci stanno ascoltando il fascismo italiano quello storico insomma è durato poi una ventina d'anni circa dal 22 al 43 quantomeno l'aspetto istituzionale il cosiddetto regime anzi il regime tolgo il cosiddetto il ventennio come viene per convenzione definito e pur tuttavia quel fascismo regime è intervenuto all'interno di processi molto dedicati di rigenerazione dell'identità collettiva nazionale anzi di generazione dell'identità collettiva nazionale se così non fosse stato avrebbe lasciato una traccia di molto più contenuta molto meno significativa nella transizione non solo in Italia in quegli anni ma anche in altri paesi da democrazie liberali a democrazie tendenzialmente sociali il fascismo anzi i fascismi europei storici sono intervenuti pesantemente in un processo di disciplinamento collettivo e quindi il loro tracciato la loro esperienza la loro storia non si è esaurita in buona sostanza nel momento in cui hanno finito di esistere come regime quindi riannodare i fili anche diacronici cosa resta di quell'esperienza in parte l'abbiamo già fatto con la ricerca storiografica quella politologica anche quella socio-antropologica riannodare i discorsi culturali di lungo periodo o come diceva giustamente Elia Rosati i discorsi subculturali che sono legati non al concetto abusato di egemonia ma di dominio che è un concetto fondamentale che la nuova destra quella che vuole essere post fascista degli anni 80 rigenera completamente riannodare riannodare il lascito dei regimi il percorso in tempi istituzionali e costituzionali in Italia come in Europa e l'attualità della trasformazione è un lavoro che deve tenere insieme molti elementi molti quadri ma è un lavoro che in qualche modo ci restituisce la complessità non solo dei fenomeni neofascisti bensì anche e soprattutto le trasformazioni che stiamo vivendo e il modo secondo me più significativo per cogliere poi anche la specificità di quei soggetti in quanto tali evitando di fare un lavoro diciamo così microbiologico o entomologico non è questo il nostro obiettivo il nostro obiettivo è di costruire scenari collettivi dentro i quali ci sono agenti la cui identità va identificata di volta in volta nella loro capacità di permanere attraverso le loro trasformazioni grazie grazie Claudio adesso tu parlando della lunga durata interessante gli anni 80 a me viene giusto in mente di dire ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo di leggere secondo me un libro che mi è colpito molto quello di Marco Deramo Dominio la guerra invisibile dei potenti contro i sudditi perché è partito un po' dagli Stati Uniti a metà degli anni 70 questo voler proprio come dire debellare in qualche modo disgregare tutto quello che era stato portato avanti negli anni 60 appunto fino alla metà degli anni 70 da parte delle sinistre le lotte per i diritti è stata proprio una controoffensiva che ha vinto ha vinto perché poi parte la tace la parte il reganismo ma ha vinto leggendo quel libro di Marco Deramo si capisce come ha vinto proprio entrando nell'università entrando anche è triste insomma ma è stato quello l'individualismo proprietario in qualche modo che però poi ha lasciato ovviamente milioni di persone alla merce delle crisi del liberismo per l'appunto che hanno delle crisi devastanti come quella del 2007 come quella adesso in pandemia tutte le crisi economiche che conosciamo quindi ci sarebbe molto da ricostruire però volevo adesso rileggerti alcune domande che stanno facendo che la riporto e una è di Laura Stocchino vorrei chiedere a Claudio proprio Vercelli cosa pensa di pubblicazione come quella di Michela Murgia istruzioni per diventare fascista cioè se secondo lui sono testi che aiutano o se hanno un'impostazione che rischia di annacquare il discorso portandolo sul piano etico e astorico controproducente poi un'altra domanda di Andrea Montanari in attesa di poter leggere il libro di Vercelli potreste anticiparci qualcosa sulla questione del meme dei meme in generale ne ha fatto cenno Guido Panvini mi viene in mente il meme su Soros ecco di cui forse parla proprio anche stesso Vercelli nel suo libro e poi c'è una terza domanda di Fabrizio Boscolo Caporale quanto la radicalizzazione a destra riflette un vuoto di rappresentanza politica e di protezione che si è aperto sulla sinistra punto interrogativo e un'altra l'ultima Gaia Guarienti sento parlare nei vostri interventi sempre di ceti medi vorrei sapere se avete approfondito il fatto che questi gruppi neofascisti trovano consenso anche tra i giovani disoccupati precari sfiduciati nel futuro e poco acculturati che appartengono a quello che una volta si chiamava proletariato o anche sottoproletariato benissimo delle domande grazie benissimo molto velocemente parto dall'ultima domanda noi dobbiamo pensare ai fascismi storici come al neofascismo e al neofascismo usiamo il plurale a questo punto come a soggetti trasversali che trovano nella crisi storica dei ceti medi del passato come anche del presente un punto di identificazione un punto di autopromozione ma che giocano moltissimo con grande ambiguità ma anche con grande capacità sul versante della plebeizzazione che veniva ricordato prima è un meccanismo non facile da capire l'attrazione della dimensione plebea come se la dimensione plebea fosse la dimensione della liberazione della in qualche modo manifestazione di una interiorità i fascismi tradizionalmente evocano l'individuo come istinto in buona sostanza e dicono al certo medio in sfaldamento in crisi di coesione sociale libera i tuoi istinti perché in qualche modo sarei te stesso scusatemi la facile rappresentazione ma questa cosa qui può cercare non di rispondere ma di incrociare il senso dell'ultima domanda sono un territorio di potenziale comunicazione tra soggetti che appartengono altrimenti a ceti sociali o classi che non sono destinate in altri luoghi a incontrarsi semmai eventualmente a differenziarsi e in qualche caso anche a scontrarsi quindi non sottovalutiamo la capacità di queste figure eventualmente in alcuni casi di costituire invece una piattaforma di integrazione tra gruppi sociali distinti e diversi punto primo passo alla terza domanda andando in successione inversa sì la domanda è direi quasi retorica sì nel momento in cui la trasformazione del mondo del lavoro la sua diversificazione la sua complessificazione il suo mutamento direi anche la sua consunzione per alcuni aspetti la transizione da un mondo digitale scusate da un mondo industriale da un mondo digitale è un elemento come dire ormai prevalente è inesorabile il fatto che l'incapacità di cogliere e rappresentare gli interessi di queste società di questi gruppi di queste comunità in via di evoluzione e trasformazione produca per l'appunto disancoramento produca un vuoto di rappresentanza che può essere coperto in altri modi da altri soggetti non apriamo un conflitto tra diritti sociali e diritti civili però attenzione anche che in qualche misura l'attenzione fortemente radicata sui diritti di identità i diritti civili come se potessero in qualche modo surrogare i discorsi sui diritti sociali i diritti di eguaglianza è un tema molto problematico è un tema che apre molti conflitti oggi le formazioni quantomeno politiche istituzionali lavorano molto sulla rappresentanza dell'identità e delle diversità e su questo non c'è nulla da obiettare ma sul tema dei diritti di eguaglianza invece c'è una fortissima carenza proprio perché tematizzare un mondo del lavoro in trasformazione e anche in parte in consunzione perché questo è l'elemento che si deline all'orizzonte e quanto di più difficile si possa fare ma se vogliamo ragionare in termini strettamente politici è la ragione direi storica ontologica dell'esistenza delle sinistre o comunque sia di un fronte molto ampio di soggetti che rappresentano per l'appunto la collettività al lavoro come rappresentarla oggi è forse l'interrogativo più impegnativo rispetto per l'appunto ai mutamenti di cui dicevamo ancora sono sempre risposte molto molto generiche molto veloci sulla questione dei meme anzi al polvere si dovrebbe dire me beh è un tema fortemente interessante e rilevante perché sono veicoli di comunicazione sono dei replicanti atomici che si riproducono e che si trasformano nel corso del tempo fluendone all'interno di un habitat che è quello virtuale è un processo di molecularizzazione della comunicazione che è fortemente legato agli standard della comunicazione digitale e che ad esempio è al centro per dire della costruzione simbolica e della comunicazione politica di una realtà come Quenon che è una realtà che si autoalimenta che ha trovato nel trumpismo una radice interessante ma che va oltre Trump che ha una sua solidità non è un partito politico non è un movimento politico non chiede affiliazioni non chiede federazioni non chiede iscrizioni chiede in qualche modo un lavoro di replica ma anche di condivisione e di creazione all'interno del web questo è un elemento assolutamente premiante e aggiungo anche quel meme noi abbiamo che fare una sorta di sovversione tra realtà e raffigurazione la raffigurazione sopravvanza da realtà si sostituisce alla realtà tema molto complesso se vogliamo di psicologia sociale sul quale ancora una volta facendo dei riferimenti al passato fascismi storici a modo loro in un contesto molto diverso da quello che stiamo vivendo oggi hanno già lavorato perché mitopoiesi come diceva Elia mimetismo e così via non sono categorie solo superficiali ma sono qualcosa che afferiscono ad aspetti fondamentali dell'identità degli individui tanto più nel momento della radicalizzazione della velocizzazione dei rapporti di comunicazione e quindi della trasformazione delle identità individuali e collettive ultima questione mi si chiede un giudizio su Michela Murge non lo formulo su da persona in quanto tale che è ben libera ovviamente di produrre i suoi lavori dico solo questo il libro mi lascia molto perplesso per usare un eufemismo in buona sostanza però ecco un tipo di lavoro di quel genere come un'autrice di quella natura al di là delle indiscutibili qualità letterarie sta molto dentro un genere di un criterio di manifestazione di esposizione di certi temi anche dell'agenda politica potrei definirlo televisivo e non solo ma non solo perché le compare in televisione ma perché in qualche misura gli eventi politici gli eventi sociali gli eventi culturali esistono nella misura in cui sono spettacolarizzabili sono riproducibili dentro un cannone che è quello televisivo che viene poi permutato che viene poi utilizzato anche in parte dal web e questo è un altro passaggio problematico non per l'autrice in sé ripeto ancora una volta libera di esprimersi come meglio crede ma per la percezione collettiva che noi abbiamo di certe cose dove si sfarina completamente la divisione tra dimensione politica e dimensione televisiva io penso anche senza fare dei nomi anche perché non è una questione personale è una dimensione come dire collettiva alla transitività alla trasformabilità di certi soggetti politici che diventano soggetti televisivi e viceversa allora inserirei quel discorso lì all'interno di questa logica che è una logica però molto particolare un tempo e finisco su queste note il politico in maniera molto rigorosa a volte quasi un po' lugubre compariva in una tribuna politica e parlava alla collettività in un certo modo con una plomba una misura che riguardava anche poi il movimento sociale uno si va a rivedere su web le tribune politiche di Almirante dove la distanza era un elemento fondamentale era un elemento di accreditamento oggi invece c'è una finta familiarità e una finta vicinanza che induce anche il telespettatore come anche il fruitore del web a ritenere che ogni cosa sia comprensibile e fruibile secondo i suoi canoni immediatamente in realtà la politica chiudo per davvero implica cognizione implica partecipazione implica anche distanziamento critico e analitico è la ragione per cui le persone che sono qui presenti verrebbero molto facilmente liquidate da una parte degli osservatori esterni come i professoroni che fanno discorsi complicati plebeizzazione corre insieme a populismo a semplificazione a banalizzazione la banalizzazione fra l'altro attraversa dalle vicende anche più disgraziate del novecento e non è soltanto un atteggiamento di superficie è qualcosa di molto profondo implica la deresponsabilizzazione però qui andiamo su categorie morali vorrei risparmiare a quanto ci stanno ascoltando dico solo e chiudo per davvero che l'insieme di questi elementi partendo appunto dalla radice neofascista e le sue trasformazioni ci induce a ragionare ad ampio raggio su una pluralità di fattori che sono legati alle trasformazioni socioculturali che stanno interessando le nostre collettività in maniera duratura e in prospettiva non parlano tanto del passato ma ci possono aiutare a iniziare a parlare del tempo presente di quello a venire Bene grazie è importante insomma le risposte alle varie domande dei nostri ascoltatori non riusciamo ad andare oltre anche perché penso che un'ora e mezza sia già sufficiente per la sopportazione e niente ringrazio tantissimo tutti i nostri convenuti appunto i nostri studiosi oltre Claudio ovviamente Vercelli l'autore Pambini Rosati Cristian Raimo che ci ha dovuto appunto lasciare per impegni sopraggiunti e il tema spero insomma che possano i nostri ascoltatori possano appunto leggere il libro di Claudio Vercelli e altri libri che abbiamo citato insomma per riflettere su una questione come questa dei neofascismi che vedrà purtroppo i prossimi anni ecco non sarà non è certo un problema di adesso del presente viene da lontano e purtroppo insomma lo vedremo anche nei prossimi anni quindi benissimo vi ringrazio molto e vi saluto grazie grazie a voi buona serata a tutti grazie a voi buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti